E' un 42enne di Real Monte, il pusher arrestato alla polizia di Agrigento che lo ha scoperto in possesso di 30 kg di cocaina e il più grande sequestro di droga mai effettuato in provincia. 12 indagati, 10 dei quali destinatari di ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta delle magistrature di Verone Agrigento, scoperta una truffa che sfruttava i crediti d'imposta del super bonus facciate. 31 anni fa la strage di Capaci, nella quale furono uccisi i giudici Falcone e Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Stefani e Montinaro, a Sciacca gli alunni dell'Inveggia e Sanoresso Mangio da Curso e Miraglia. Beneficenza dietro esibizione di fattura, l'aspedia Agrigento ha bloccato la donazione da parte dell'Associazione Capurro di tre dispositivi diagnostici richiesti dagli stessi direttori del reparti, l'amarezza di Alessandro Capurro. Prima il ponte sullo stretto, poi vedremo se saranno possibili l'aeroporto e il completamento dell'anello autostradale, così il ministro Matteo Salvini intervenuto ieri ad un convegno di Confcommercio. L'emergenza ai migranti e l'accelerazione dei tempi per il trasferimento di Chiappro da Lampedusa al centro dell'agenda del nuovo prefetto Filippo Romano, che si è insediato oggi e che prende il posto di Maria Rita Cocciufa. Benvenuti, bentrovati su Telemonte Cronio per un nuovo appuntamento con l'informazione. Oggi un'ampia pagina dedicata alla cronaca in apertura del Tg. 30 kg di cocaina destinati alla piazza Agrigentina sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Agrigento a Giuseppe Neri, 42 anni, di Real Monte. La droga era nascosta nel portabagagli della sua auto. Si tratta del più grosso sequestro di cocaina effettuato in provincia di Agrigento. Nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina, il procuratore Salvatore Vella ha lanciato un messaggio a tenere ben aperti gli occhi in vista del 2025, quando la città dei templi sarà capitale della cultura. Ascoltiamo il servizio di Davide Sarto. Maxi sequestro di cocaina ad Agrigento, il più ingente mai effettuato nella provincia Agrigentina. I poliziotti della squadra mobile, capitanati da Giovanni Minardi, in collaborazione con i colleghi della Volanti, hanno arrestato Giuseppe Neri, 42 anni, di Real Monte, sorpreso a trasportare durante la notte 30 chili di cocaina nei pressi del centro cittadino a bordo di un'automobile, con la droga nascosta in alcune scatole nel portabagagli. La sostanza stupefacente è stata ricoperta con caffè e oleata con il detersivo per depistare l'eventuale fiuto dei cani. Si ritiene che il Corriere sia parte di una organizzazione criminale a lavoro anche nella provincia di Agrigento, riemersa come mercato florido per il traffico di droga. In conferenza è intervenuto anche il procuratore regente di Agrigento Salvatore Vella. A mia memoria è il più grosso sequestro di cocaina mai avvenuto ad Agrigento, sia per quantità sia per importo investito in questa sostanza stupefacente. Intanto lasciatemi dire che sono contento il 23 maggio di essere qui in questura ad Agrigento perché forse è il modo migliore per commemorare la strage di Capaci che ha visto la morte di due magistrati e tre appartenenti alle forze di polizia. Dopodiché un plauso va al lavoro della questura di Agrigento e alle sue articolazioni della squadra mobile e delle sezioni volanti perché dietro questo sequestro e questo arresto c'è un lavoro di notti, di giorni sulla strada, di intuizioni investigative, di stralci di informazioni, di elaborazioni, di conoscenza del territorio e di persone che oggi ha portato a questo risultato che possiamo definire comunque storico. Nell'aprile del 2022 solo a Lampedusa sono stati sequestrati 24 chili di cocaina nascosti in casa di un uomo già ristretto ai domiciliari. Nella nottata di ieri siamo riusciti ad avere questo risultato, induito investigativo dei miei ragazzi, il coordinamento con l'ufficio volanti, il controllo fatto su strada nei pressi del centro urbano di Agrigento e quindi questo risultato. Parliamo di 30 chili di cocaina che per quanto riguarda il valore di mercato in questo stato del sequestro parliamo di oltre un milione di euro, un milione e due. Considerate che con un taglio a tre a quattro possiamo arrivare da sei a otto a nove milioni di euro. 12 persone, 10 delle quali destinatari di ordine di custodia cautelare, sono accusate a vario titolo di avere costituito un'associazione a delinquere che sfruttava i crediti di imposta del super bonus facciate monetizzandoli e investendoli in attività imprenditoriali sul lago di Garda. L'inchiesta, coordinata dalle procure di Agrigento e di Verona, ha visto l'impegno congiunto di carabinieri e guardie di finanza. Sentiamo. Attorno alle sovvenzioni pubbliche destinate al rifacimento degli esterni e degli immobili, il cosiddetto bonus facciate per intenderci, sarebbe sorta un'autentica associazione a delinquere il cui solo scopera quello di commettere truffe per l'illecita percezione di contributi statali. E' questa la conclusione a cui sono aggiunti i finanzieri e i carabinieri dei comandi provinciali di Verona ed Agrigento che in collaborazione tra di loro hanno eseguito nelle prime ore di oggi tra Veneto, Lazio e Sicilia dieci ordinanze di custodia cautelare, tre delle quali in carcere e le altre sette domiciliari. L'indagine ha unificato due filoni seguiti rispettivamente dalla Procura Veneta e da quella agrigentina. Oltre alle misure restrittive personali sono stati anche sequestrati conti correnti, autovetture e immobili, ma sigilli sono stati apposti anche ad una società, ad un hotel, a due pasticcerie, a due ristoranti e ad un locale sul lungo lago di Garda, sequestrati preventivamente ai fini della confisca più di 5 milioni. Per finanzieri e carabinieri quella che si delinea come l'associazione a delinquere che operava su gran parte del territorio nazionale aveva base nel comune di Peschiera del Garda ma anche nell'area bresciana del lago di Garda dove gli indagati di origine siciliana, calabrese, campana e albanese avvalendosi della professionalità di un commercialista attivo nella provincia di Treviso dopo aver monetizzato attraverso l'accessione a posta italiana S.P.A. circa 5 milioni di crediti di imposta fittizi provenienti dal cosiddetto bonus facciate, avevano reinvestito e riciclato i proventi della imponente truffa e danni dell'erario acquistando locali turistici e commerciali sul lago. I provvedimenti odierni hanno fatto finire in tutto 12 persone sotto indagine, sono tutti operanti tra Italia e Spagna e sono adesso indagate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio. Tra il 2021 e il 2022 le fiamme gelle e grigentine, nell'ambito di un vasto contesto investigativo, avevano intercettato alcune conversazioni telefoniche di contenuto criptico, da cui però, stando a quanto considerato dagli inquirenti, emergevano operazioni aventi ad oggetto, transazioni finanziarie collegate all'accessione di crediti fiscali provenienti da bonus edilizi. Gli approfondimenti effettuati nei confronti dei soggetti indagati hanno permesso di accertare così quello che, secondo gli investigatori, era un articolato meccanismo fraudulento che si estendeva ben oltre i confini siciliani e che stava inquinando l'economia del territorio veronese. Parallelamente, i carabinieri del Comando Compagnia di Peschiera del Garda stavano procedendo con autonome indagini nei confronti di altri soggetti da poco insediatesi nell'area gardesana i quali, evidenziando una consistente e anomala disponibilità finanziaria, stavano concludendo frenetiche operazioni di acquisto di strutture turistiche e attività commerciali sulla sponda sud-occidentale del lago di Garda. La Procura della Repubblica di Verona, interessata dai carabinieri scaligere e dei magistrati e grigentini, ha ordinato pertanto una sinergia investigativa valorizzando così le specifiche competenze delle due forze di polizia. Scelta, quella operata dall'autorità giudiziaria inquirente, che si è rivelata efficace perché la proficua collaborazione nelle indagini ha così consentito di ricostruire in tempi rapidi in maniera analitica le operazioni effettuate dagli indagati e i rapporti intrattenuti sul territorio veronese. Quello che ne è venuto fuori, secondo finanzieri e carabinieri, è un meccanismo illecito, sviluppatosi mediante diverse condotte fraudolente ad opera di una compagine criminale che ha creato ad arte i presupposti per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di oltre 17 milioni di euro di crediti d'imposta inesistenti in relazione ai bonus facciate. Gli accertamenti hanno fatto emergere che all'origine delle catene di cessione dei crediti fittizi vi erano svariate decine di persone che risultavano aver dichiarato, nella maggioranza dei casi inconsapevolmente, di aver effettuato lavori di ristrutturazione di lizia delle facciate esterne, così acquisendo il diritto alla detrazione del relativo importo pari al 90% della spesa che avrebbero dovuto sostenere e di aver poi comunicato di aver ceduto relativi crediti a terzi. Successivamente le pratiche per centinaia di migliaia di euro venivano trasmesse per conto degli ignari titolari ad opera del commercialista trevigiano, previo concerto ed in accordo con gli altri membri del suo delizio criminale. I crediti d'imposta così originati venivano ceduti a società e imprese individuali tutte riconducibili agli indagati, direttamente o indirettamente, le quali a loro volta li cedevano a poste italiane inconsapevole della frode e indotta in errore per un importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro monetizzati in denaro utilizzabile a tutti gli effetti. Il denaro ottenuto legalmente come controvalore dei crediti è stato trasferito su conti esteri, soprattutto spagnoli, per poi rientrare nella disponibilità del suo delizio che lo ha utilizzato per acquistare attività economiche, ovvero un hotel, due bar, due pasticcerie, due ristoranti sul lago di Garda, nonché abitazioni ad uso residenziale e varie quote di società. È lotta all'abbandono dei rifiuti a Ribera. L'amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli grazie a telecamere installate in zone particolarmente vulnerabili a tale fenomeno e sono già scattate le prime sanzioni. Sentiamo. Sono scattate le prime multe a Ribera dopo che nei giorni scorsi sono state installate alcune telecamere di sorveglianza al fine di contrastare il crescente fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Telecamere che sono state posizionate strategicamente in diverse aree della città per monitorare e identificare coloro che abbandonano i rifiuti in maniera illecita e hanno permesso di individuare e identificare diversi soggetti che in maniera incivile ed irrispettosa contravvengono alle norme sul corretto smaltimento. Lo evidenzia l'assessore al decoro urbano Giuseppe Sgro. Grazie alla collaborazione tra le autorità locali e le forze dell'ordine, le telecamere sono state opportunamente nascoste per garantire l'efficacia dei controlli e ciò ha consentito di monitorare attentamente le zone a maggiore rischio di abbandono di rifiuti, fornendo prove visive di quanti si sono resi responsabili e nei prossimi giorni riceveranno le notifiche delle relative sanzioni. Questi primi risultati, aggiunge l'assessore Sgro, ci incoraggiano a proseguire nella direzione della massima fermezza e attenzione, occorre punire l'atteggiamento arrogante e sfrontato di persone che non hanno minimamente a cuore il decoro della città e la cura dell'ambiente. Si tratta di comportamenti che palesano un chiaro disinteresse per il prossimo, per le nuove generazioni e per quelle future. Le telecamere di sorveglianza rappresentano uno strumento efficace nella lotta contro il degrado ambientale e pertanto saranno ulteriormente implementate in diverse altre zone critiche del territorio. I sacerdoti di Ravanusa e Campobello di Licata, con i consigli pastorali parrocchiali e l'ordine francescano secolare, dopo aver appreso la notizia della conclusione delle indagini preliminari, auspicano che venga fatta piena luce sulle reali cause che hanno provocato la tragedia dell'11 dicembre 2021 in via Trilussa, che ha causato la morte di ben dieci persone, lo sconvolgimento della vita delle famiglie delle vittime e di coloro che sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni. È necessario, hanno scritto, perché siano riaffermate la verità e la giustizia su un fatto che ha sconvolto la comunità di Ravanusa. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo hanno arrestato tre ventunenni incensurati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante dei controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno intimato l'alta alla vettura dove viaggiavano i tre alcamesi, notando da subito un atteggiamento agitato e poco collaborativo. Procedendo alla perquisizione dell'auto e dei tre giovani, i militari dell'arma hanno rinvenuto cinque dosi di cocaina ben occultati. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dieci grammi di cocaina suddivisa in dosi all'interno di un'intercapedine di una porta, ulteriori due grammi di marihuana, nonché materiale da taglio e confezionamento, un bilancino di precisione e circa 3.500 euro in contanti. I tre giovani sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di Alcamo. I carabinieri della sezione di Valderice hanno denunciato una donna di 62 anni per furto in abitazione ed in debito utilizzo di carta di credito. L'indagine dei carabinieri è iniziata a seguito della denuncia di un furto di una carta di credito presentata dalla vittima, la quale dichiarava che il Bancomat era stato rubato dall'abitazione sebbene fosse stato nascosto in un cassetto. Da una serie di accertamenti che hanno permesso di individuare dei prelievi eseguiti sulla carta, dalla quale erano stati nel frattempo asportati circa 2.400 euro. In pochi giorni, dall'estrapolazione di filmati, di videosorveglianza e di istituti di credito, i militari dell'arma sono risaliti alla 62enne, residente in un paese vicino che saltuariamente svolgeva le faccene domestiche nella casa della vittima, spesso anche in sua assenza. Seduta a consigliare questa sera, Sciacca è in prosecuzione dei lavori della scorsa settimana quando, con la sola presenza in aula dei consiglieri di opposizione, erano state approvate le variazioni di bilancio per i finanziamenti ottenuti per la mezza scolastica di Sant'Agostino e la messa in sicurezza di Via Pietro Germi. All'ordine del giorno c'è il tema scottante delle società partecipate per il quale l'opposizione chiede all'amministrazione comunale di entrare nel merito dei fondi che il Comune stanzia annualmente. Nel corso della seduta, probabilmente già nella fase delle comunicazioni, si parlerà inevitabilmente del Carnevale di Sciacca. Il presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Messina, ha chiesto nei giorni scorsi al Questore e al Prefetto di avere contezza delle prescrizioni che hanno portato alla decisione di spostare la manifestazione dal centro storico alla Perriera, ma ancora prima tutta l'opposizione aveva presentato una richiesta di chiarimento al Sindaco sull'organizzazione e gestione del Carnevale a maggio, il cui inizio peraltro è slittato al prossimo fine settimana. Opposizione che ha rilevato come su tutto ciò il Sindaco Fabio Termini non abbia ritenuto di informare il Consiglio Comunale che ha preso dagli organi di informazione la decisione di spostare il Carnevale alla Perriera. Anche per la seduta di questa sera la Presidenza del Consiglio Comunale aveva chiesto all'amministrazione di garantire la diretta televisiva. Anche il mancato accoglimento della richiesta sarà motivo di confronto in aula, posto che già da diverse sedute il servizio non viene assicurato per problemi legati alla copertura economica. Eppure ha commentato questa mattina Ignazio Messina per tante altre cose pur non urgenti e indifferibili, l'amministrazione trova i fondi necessari. Ci fermiamo per la prima pausa, vi aspetto per tutte le altre notizie. Le idee di Giovanni Falcone, così come quelle del nostro concittadino a Cursio Miragli, di tanti altri grandi siciliani caduti nella lotta contro la mafia e contro la mentalità mafiosa, continuano a camminare nei giovani, nelle nuove generazioni. Ed è questo che ci fa ben sperare. Il sacrificio di chi è morto per un ideale di giustizia e di legalità non è stato vano. Così l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Salvatore Mannino, che questa mattina ha preso parte di un'iniziativa promossa alla Scuola Media Inveges e che ha avuto il patrocinio del Comune di Sciacca, in cui si sono volute commemorare le vittime delle stragi di capaci e tutte le vittime cadute per mano della criminalità organizzata, con il progetto scolastico Testimonianze di Legalità e il coinvolgimento attivo degli studenti. E come dicevamo, una delegazione di studenti dell'Istituto Inveges di Sciacca ha visitato oggi il monumento bronzo dedicato da Cursio Miragli e la casa in cui abitava fino al giorno del suo assassino nei pressi di Piazzetta Lazzarini. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Miraglia, presieduta da Nico Miraglia e dalla dirigente scolastica Mariangela Croce, si è tenuta simbolicamente nel giorno in cui ricorre il 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui la mafia e pezzi deviati dello Stato uccisero il giudice Giovanni Falcone e gli agenti della sua scorta. Vediamo. In occasione del 31esimo anniversario dalla strage di Capaci, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Inveges di Sciacca si sono recati in visita al busto bronzeo di Accurso Miraglia e, subito dopo, all'abitazione in cui abitava nei pressi di Piazzetta Lazzarini. Presenti la dirigente scolastica Mariangela Croce, la Fondazione Miraglia con il suo presidente Nico Miraglia, Franco Colletti della Flai CGL e l'assessore comunale alla cultura Salvatore Mannino. L'attività progettuale è stata denominata una testimonianza di legalità, dal sacrificio del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, al sacrificio del sindacalista Accurso Miraglia, identificato come martire della legalità. Una delegazione di studenti, accompagnata dai docenti, ha posto una corona di fiori al monumento in onore di Miraglia ed è stato proprio durante quel momento che i giovani hanno potuto conoscere la storia, la vita e le vicende che hanno portato alla morte per mano mafiosa del sindacalista attraverso la testimonianza emozionata del figlio Nico. Sicuramente attraverso la testimonianza e il ricordo si può tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la sua vita per la giustizia e il rispetto della legalità e per un futuro libero dalle mafie. Nella seconda parte della mattinata, invece, Nico Miraglia ha incontrato tutte le classi terze nella palestra dell'Istituto Inveges. Tramite documenti, fotografie, un cortometraggio e tramite l'intervento di un altro testimone diretto che ha conosciuto personalmente il sindacalista, i ragazzi hanno avuto modo di apprendere meglio la figura storica di Miraglia e di ricevere il testimone della memoria e della coscienza civile. Promuovere la cultura della legalità a scuola significa anche educare gli alunni al rispetto della dignità della persona attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l'acquisizione delle conoscenze e l'interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Un messaggio, quello di Accurso Miraglia, più attuale che mai. Giornata della legalità questa mattina all'Istituto Superiore Amato Vetrano di Sciacca, nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Un'iniziativa per ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la lotta contro la mafia e per l'affermazione della legalità attraverso gli interventi della dirigente scolastica Caterina Mule, dell'assessore comunale d'istruzione Salvatore Mannino e del procuratore del Tribunale di Agrigento Maria Barbara Cifalino. A moderare l'incontro la docente Cristina Cassaro. Durante la manifestazione sono stati esposti i lavori e i cartelloni sulla legalità realizzati dagli studenti. Il lavoro è libero, questo è il banner della CISL esposto oggi nelle sedi di Agrigento, Caltanissetta ed Enna per ricordare la strage di Capaci. Un'iniziativa per tenere vivo il ricordo di quanti sono stati vittima del sistema mafioso e per lanciare che dove c'è il lavoro con diritti riconosciuti in condizioni di sicurezza e di congrua retribuzione, la criminalità non trova spazio. L'ASP di Agrigento ha bloccato la donazione di altri tre strumenti diagnostici all'ospedale di Sciacca da parte dell'associazione Orazio Capurro. I vertici dell'azienda sanitaria hanno dato la loro disponibilità ma dietro esibizione di fattura di acquisto. L'associazione Capurro replica parlando di mancanza di rispetto perché non è mai stato chiesto ad un benefattore di sapere quanto è costato il suo regalo. C'è il servizio. La burocrazia prende di mira perfino la beneficenza. Succede così che l'associazione Orazio Capurro Amore per la vita Onlus, che negli anni ha già donato almeno due dozzine di strumenti diagnostici di vario tipo all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, stavolta non si è ancora riuscita, malgrado la sua buona volontà, a portare a termine la consegna di ulteriori tre dispositivi. E così è stata bloccata la donazione di un ecografo multidisciplinare portatile per effettuare ecografie anche al domicilio dei pazienti allettati, un alter elettrocardiogramma ed un alter pressorio per migliorare le capacità di diagnosi, ridurre tempi d'attesa e fornire migliori e più veloci prestazioni sanitarie ai pazienti. Dispositivi peraltro richiesti all'associazione Capurro dagli stessi direttori del distretto sanitario di base e dell'unità operativa complessa di medicina e chirurgia di accettazione d'urgenza. L'associazione Capurro ha colto la richiesta da due mesi e pronta a donare le apparecchiature, ma il commissario Zappia e i direttori Mazzara e Lovullo hanno comunicato all'associazione la propria disponibilità ad accettare la donazione ma dietro presentazione della fattura di acquisto. Voi dite se è una donazione perché dovete preoccuparvi di quanto ci è costata? Questa sostanzialmente no? Assolutamente sì, è una fattura poi tra l'altro intestata a noi, non è neppure intestata a loro e mi sembra davvero anche se vogliamo dire una mancanza di rispetto chiedere ad un benefattore che vuole dare una mano di aiuto ed è la comunità che aiuta perché la nostra associazione ha anche i proventi del 5 per 1000, le erogazioni liberali fatte dai cittadini, quindi sono i cittadini che aiutano se stessi. Mai abbiamo dovuto produrre fattura. Non comprendiamo le ragioni di questa richiesta ed è una cosa che ci sta lasciando veramente molto perplessi. Che le sappia sono intervenuti fatti nuovi normativi che impongono questa cosa? No, no, no. Tra l'altro noi già abbiamo fornito o prodotto ampia documentazione all'Asp, schede tecniche, le interlocuzioni nulla osta dei direttori che hanno tra l'altro loro stessi diciamo tramite PEC che è richiesto la disponibilità alla nostra associazione di dare una mano ecco per la donazione di queste apparecchiature. Ma se questa cosa fosse comunque una specie di garanzia sul buon funzionamento del macchinario che voi mettete a disposizione? No, assolutamente perché comunque noi nel momento in cui completiamo la donazione già la casa madre fa sempre il verbale di consegna, installazione e collaudo. Sono apparecchiature nuove. Tra l'altro già nei preventivi che noi abbiamo fornito all'Asp già c'è la destinazione della merce, c'è tutta diciamo l'apparecchiatura completa di tutto quanto viene donato quindi compreso nell'intera fornitura. Esatto, abbiamo fatto decine e decine di donazioni. Una richiesta che per lo stesso Capurra è incomprensibile perché non è stata l'Asp ad acquistare questi dispositivi. Lei si spiega in qualche maniera questa ricercatezza del cavillo? Mi spiace che ci stiamo scontrando sempre con l'ennesima burocrazia e con l'ennesimo intoppo con l'Asp perché se l'ospedale di Sciacca si trova in queste condizioni dobbiamo anche dire che le responsabilità non sono assolutamente dei medici. Probabilmente l'ospedale di Sciacca non riceve le giuste attenzioni e le giuste risposte da parte dell'Asp quindi quando poi ci sono dei benefattori che vogliono dare una mano non possiamo costringere anche il mondo del volontariato a levarci mano ecco perché noi non lo faremo mai. Noi andiamo avanti nella memoria di mio fratello dice Capurro. Noi continueremo sempre nel nostro impegno nel ricordo di mio fratello e per aiutare la nostra comunità quindi qualsiasi intoppo noi lo vogliamo assolutamente superare. Quasi 30 miliardi di euro di investimenti in Sicilia ma il ponte sullo stretto viene prima di tutto. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ieri ad Agrigento su invito di Confcommercio ha detto la sua sulla difficoltà in cui versano le vie di comunicazione ma su aeroporto e chiusura dell'anello autostradale ha assunto impegni generici. Il servizio di Massimo D'Antoni è Davide Sarto. Pio domani in questi minuti sarò il Senato perché il Senato approverà entro questa settimana definitivamente il ponte. Il progetto e poi si parte. È il ponte sullo stretto di Messina la priorità del governo Meloni. Il ministro Matteo Salvini ieri ad Agrigento è stato chiaro pur riconoscendo la necessità di migliorare le altre vie di comunicazioni presenti nella nostra regione. Ricordando come al momento tra cantieri in corso e pronti ad essere aperti in Sicilia sono stati programmati investimenti per 28 miliardi di euro. Abbiamo già cantieri aperti o in apertura per quasi 30 miliardi di euro in Sicilia fra strade, autostrade e ferrovie per collegare tutte le città di questa splendida terra. Il ponte è una parte del progetto, stiamo lavorando per ferrovie più veloci, per strade più moderne e sicure perché sono venuto da Catania in macchina e la Catania Agrigento non è un'autostrada o una superstrada, è una cosa. Quindi investire i denari per portare non solo i turisti, ovviamente Agrigento è una perla mondiale, non italiana, però anche per i cittadini, per i lavoratori, per gli studenti, per i pendolari, per gli agricoltori. Quindi lavorare sui porti, sugli aeroporti, su strade ferrovie, ripeto, 28 miliardi sono in Sicilia e poi il ponte ovviamente è il coronamento di tanti anni di sogni per milioni di siciliani che pagano ogni anno miliardi di euro per il mancato collegamento con la terraferma. Quindi diciamo che in sei mesi i miracoli non se ne fanno, ma mi sembra di aver dimostrato che volere è potere. Sull'aeroporto invocato dall'ordine degli architetti, il leader della Lega ha sostanzialmente glissato, anche sulla chiusura dell'anello autostradale con la Castelvetrano Gela, il ministro del governo Meloni ha assunto impegni piuttosto generici. Sulla rete autostradale che manca ci stanno lavorando i tecnici, quindi conto che il prossimo ritorno ad Agrigento avrò tempi più definiti, però sicuramente non possono esserci in Sicilia solo Palermo e Catania, fondamentali, città assolutamente importanti, rilevanti, però la Sicilia non è solo Palermo e Catania, sono anche tutte le altre province che meritano di essere raggiunte. Il ministro Matteo Salvini ieri ad Agrigento ha partecipato ad un'iniziativa promossa da Confcommercio. Non avendo l'unico punto di autostradale della Sicilia e non avendo una rete ferroviaria all'altezza del suo nome, non avendo naturalmente porti e aeroporti che servono sia il commercio che il trasporto delle persone, è chiaro che è una provincia che è isolata nell'isola, quindi benvengano tutte le infrastrutture importantissime, lo ha detto anche il ministro, il ponte sullo stretto è fondamentale se è bene coadiuvato da una serie di azioni che legano il territorio anche dal punto di vista della rete autostradale, della rete ferroviaria, della rete aeroportuale. Per questo attendiamo che ci siano delle buone indicazioni in tal senso oggi. Oggi più che mai c'è la necessità per le imprese di avere collegamenti veloci, di avere infrastrutture moderne ma soprattutto sicure e Agrigento purtroppo non ha mai avuto diciamo di queste tipologie di attività. Si parla tanto di aeroporto ad Agrigento? Non è la prima volta che se ne parla, anche 43 comuni della provincia di Agrigento più 22 della provincia di Caltanissetta hanno sottoscritto nei loro consigli comunali la volontà della realizzazione dell'aeroporto. Presente al convegno anche il presidente del consorzio universitario Nenè Mangia Cavallo direttamente coinvolto nel progetto per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Infrastruttura ed economia sono degli elementi strettamente collegati fra loro, sono due facce delle stesse medaglie, quindi se noi incrementiamo la rete infrastrutturale, se noi incrementiamo i trasporti migliora il turismo, se aumenta la possibilità di interconnessione si dà maggiore possibilità agli imprenditori di investire e di conseguenza un miglioramento dell'economia dell'intera provincia. Si torna a parlare di aeroporto ad Agrigento, quanto è indispensabile? Io non voglio dire che sia indispensabile ma è sicuramente necessario perché una delle carenze che registriamo in questa città è proprio la possibilità di raggiungerla. Si è insediato ieri il nuovo prefetto di Agrigento Filippo Romano che stamattina ha incontrato i giornalisti e parlato dei temi caldi del territorio a cominciare dall'immigrazione. Ha annunciato che a Lampedusa sarà attivato il commissariato di polizia. Dal governo ha poi detto, ha ricevuto l'input ad accelerare al massimo il trasferimento dei migranti dall'isola. Sentiamo le sue dichiarazioni. Primo incontro con la stampa questa mattina per il nuovo prefetto di Agrigento Filippo Romano, 57enne originario di Udine che torna in provincia dopo aver guidato da commissario straordinario ai comuni di Canicattia e Racalmuto. Prende il posto di Maria Rita Cocciufa della quale il nuovo prefetto ha rimarcato l'importante lavoro svolto negli ultimi tre anni. Trovo un lavoro già ampiamente ben avviato dai miei predecessori, in particolare Rita Cocciufa che è stata qui tre anni e che ha dato il massimo, tant'è che è stata destinata a una sede del Nord che una volta era ritenuta sede tranquilla e in realtà è molto problematica per esempio per le infiltrazioni mafiose, perché è chiaro che la mafia poi tende ad andare dove ci sono le sostanze, dove ci sono i soldi, dove c'è ricchezza. In quel caso parliamo di mafia per lo più calabrese e in parte campana e a portare lì l'esperienza che ha maturato nelle prefetture del Sud. Quindi è un riconoscimento anche importante per quello che ha fatto. La provincia di Agrigento presenta diverse criticità, ha detto il prefetto romano, soffermandosi in particolare sul tema dell'immigrazione e annunciando gli impegni per sostenere l'isola di Lampedusa. Il mio desiderio sarebbe quello di fare un po' d'ordine, nel senso di trovare, soprattutto per Lampedusa, un sistema che funzioni un po' da solo. In questo molto aiutato dal fatto che, ci vuole fortuna, il Ministero proprio, il Governo proprio in questo momento, che coincide col mio insediamento, sta rinforzando moltissimo l'intervento diretto su Lampedusa. Parlavamo proprio poco fa, quando siete entrati voi, con i colleghi della formazione di un ufficio permanente del Ministero a Lampedusa. Appunto mi stavano dicendo che probabilmente il Comune darà una sede, troveremo anche un alloggio per i colleghi perché staranno lì in pianta stabile. E non sono gli ultimi arrivati, si tratta di colleghi, in particolare il Vice Prefetto che sarà posto a capo di questa struttura, che ha una lunghissima e approfondita esperienza in materia di immigrazione. Viene proprio da quella direzione, dal Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione. E si è occupata per anni, per anni, si è occupata perché è una collega, di logistica relativa all'immigrazione. Con lei ci sarà un collega più giovane che le sarà per così dire vice e poi alcuni funzionali dei Vigili del Fuoco, della Polizia, quindi sarà una bella task force sul territorio. Questo ci aiuterà molto. Stamattina con un minimo di bel tempo abbiamo avuto uno sbarco, 42 persone, no? Quindi voglio dire, il problema si pone. Anzi ci tengo a dirvi che il Governo mi ha dato mandato su Lampedusa di garantire il flusso più veloce possibile. Cioè Lampedusa devono soltanto toccare terra e poi essere entro brevissimo tempo. Sappiate che questi 42, per esempio, era previsto oggi, lo faremo domani, semplicemente perché oggi finalmente arriva il mezzo per prelevare i fusti di benzina e di carburanti conservatili lasciati nel porto. Quindi solo per questo, se no sarebbero partiti oggi. Quindi l'idea, il mandato che ho è quello, di tenerla più possibile libera. Ovviamente noi possiamo togliere l'hotspot perché quello è Lampedusa, come dire, questa posizione geografica e queste caratteristiche. A Lampedusa sorgerà anche un commissariato, grazie per avermelo ricordato. Stavo sorvolando su questo invece un punto fondamentale. Tenete conto che i commissariati raramente sono quasi mai in comuni così piccoli. Case Popolari di Largo dei Martiri di Via Fagna a Ribera, la vigia della conferenza di servizi convocata per domani mattina dal sindaco Matteo Ruvolo per fare il punto su accatastamento con laudo, assegnazione e tempi di consegna e una delegazione del Consiglio Comunale con a capo il presidente Vincenzo Costa ad annunciare l'ennesimo rinvio della consegna degli immobili per problemi di natura tecnica ed amministrativa. Lo hanno appreso ieri a conclusione di un incontro presso lo IACP. C'è il servizio. Il 25 maggio prossimo non ci sarà alcuna consegna dei nuovi alloggi popolari di Largo dei Martiri di Via Fagna a Ribera, poiché alcune problematiche di natura tecnica ed amministrativa che impediscono l'accatastamento e la consegna non sono state ancora superate. E' quanto hanno appreso ieri il presidente del Consiglio Comunale di Ribera Vincenzo Costa e i consiglieri comunali Giuseppe Ciancimino, Calogero Cibella, Giovanni Di Caro, Nicola Inglese, Enza Mulè, Federica Mulè e Pietro Siragusa durante l'incontro presso la sede dell'OIACP di Agrigento con il commissario Vicario Maltese e il direttore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari Mameli. Dai due funzionari abbiamo appreso con rammarico che giovedì prossimo non ci sarà alcuna consegna, riferisce la delegazione del Consiglio Comunale di Ribera che ha partecipato all'incontro. Tuttavia, prosegue la nota della Presidenza del Consiglio, auspichiamo una rapida risoluzione delle criticità rilevate, posto che siamo estremamente preoccupati delle conseguenze e dei disagi che potrebbero derivare da ulteriori ritardi. La riunione è stata aggiornata in attesa delle risultanze della conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Ribera Matteo Ruvolo per la giornata di domani, avente ad oggetto proprio la questione dell'accatastamento e della consegna degli immobili di Largomartiri di Via Fani. Nel manifestare la propria vicinanza alle famiglie interessate, i consiglieri comunali concludono la nota con l'auspicio che la vicenda possa risolversi nel più breve tempo e nel miglior modo possibile. La vicenda della mancata consegna dei nuovi alloggi popolari nelle ultime ore, come è noto, ha scatenato anche uno scontro politico tra l'amministrazione comunale di Ribera e il parlamentare regionale riberese Carmelo Pace. Il Sindaco Matteo Ruvolo vuole tornare a fare il punto sulla situazione dell'accatastamento e del collaudo degli immobili sui criteri di assegnazione e sui tempi di consegna e lo farà domani mattina alle 10.30 durante la conferenza di servizi nella Sala dei Sindaci. Per l'ex sindaco Carmelo Pace invece, che ha convocato una conferenza stampa per venerdì mattina, non c'è motivo per continuare a temporeggiare e a delegare ad altri la conclusione di questa vicenda. Per il capogruppo della DC a Lars ci sono tutte le carte in regola per procedere alla consegna degli alloggi e far rientrare a casa le 60 famiglie di Largo dei Martiri di Via Fani. Il settore della formazione professionale in Sicilia continua a soffrire uno stato di precaria conseguenza delle inadeguate politiche regionali, un comparto che conta circa 900 organismi accreditati e 2.000 unità di personale tra docente e personale amministrativo con una rilevante spesa pubblica che ha prodotto unicamente il mantenimento in vita degli enti e dei loro apparati più che il raggiungimento di standard formativi ad altezza delle risorse impiegate. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del PD a Lars, che sull'argomento firma una mozione per impegnare il governo regionale a rivedere e migliorare le politiche della formazione professionale in Sicilia. Si mette in moto anche in provincia di Agrigento la macchina della solidarietà in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione. La Caritas di Ocesana di Agrigento ha deciso di aderire alla campagna di raccolta fondi nazionale, non una raccolta di indumenti, genere alimentari, coperte o qualsiasi altro prodotto. In questa fase sottolineano da Caritas Italia il modo più proficuo per dimostrare prossimità alle popolazioni colpite è quello di aderire alla raccolta fondi attraverso una donazione. Per aderire è possibile fare un bonifico specificando nella causale alluvione Emilia Romagna tramite conto corrente bancario di banca intesa San Paolo intestato ad Arci Diocesi di Agrigento, conto corrente bancario di Banco di Credito Cooperativo Agrigentino intestato a Fondazione Mondo Altro Onlus. Le somme raccolte verranno inviate a Caritas Italiana che provvederà ad intercettare forme di intervento concrete e sicure volte ad offrire sostegno. L'Ebas, l'ente bilaterale dell'artigianato siciliano a sostegno delle imprese artigiane e dei lavoratori dell'Emilia Romagna in ginocchio dopo gli eventi alluvionali dei giorni scorsi. Il consiglio direttivo dell'Ebas composto da Confartigianato, CNA, Casa Artigiani e CLA in rappresentanza delle imprese artigiane e da CGL, Cisle e Will in rappresentanza dei lavoratori ha deliberato un contributo di 20.000 euro per dare un sostegno concreto. E adesso una notizia che riguarda la nostra programmazione. Al termine di tutte le edizioni dei TG di oggi andrà in onda uno speciale dedicato al Festival dell'Agricoltura e dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'Associazione Luna e i Dintorni che si è svolto all'interno della Villa Comunale di Ribera dall'11 al 14 maggio scorsi. Lello Analfino, il cantante, attore e compositore che da anni diffonde con la sua musica la cultura siciliana nel mondo, sarà ospite del Salotto Artistico Letterario San Marco Restart 23 organizzato dal Comitato Provinciale Asi in programma venerdì 26 maggio alle 18.30. Analfino si intratterrà con il giornalista Giuseppe Recca parlando della sua carriera artistica, del suo ultimo disco e delle collaborazioni con Ficarra e Picone ma anche del suo impegno civile che diffonde nelle canzoni e durante i concerti. La rubrica Il Libro del Giorno Ogni sera Martina apre il suo quaderno a quadretti e decide se colorare una casella in base a come è andata la giornata. Se la lascia bianca è stata una buona giornata, se è nera il suo opposto. Nessuna via di mezzo. Lei è fatta così. Per ora il bilancio è piuttosto negativo. Ha 34 anni e un lavoro che non la gratifica, non riesce ad avere un bambino e il suo compagno non vuole né sposarsi né acquistare una casa. Martina sa che le case non sono solo muri, ma fotografie di varie fasi della vita. C'è la casa dell'infanzia che ci offre protezione. La casa in cui per la prima volta abbiamo vissuto da soli o in condivisione, sinonimo di libertà e di precarietà. Poi c'è la casa definitiva, quello per cui si accende un mutuo che ci accompagnerà per il resto dei nostri giorni. È un passo importante, vuol dire crescere davvero e uscire dal limbo degli adulti a metà. Martina vorrebbe non esserlo più e invece ci si sente ancora tanto. Quando i suoi genitori mettono in vendita la casa in cui è stata bambina e l'invito al matrimonio di una vecchia amica riapre una porta del suo passato, Martina vede crollare tutte le certezze. All'improvviso oltre al bianco e al nero esplodono i mille colori dell'arcobaleno e quelli che sembravano obiettivi essenziali perdono di significato. Martina scopre che nel diventare adulti si procede a tentoni. Si commettono errori, ci si allontana dall'orizzonte e alle volte lo si cambia proprio. Per questo è importante godersi il viaggio, più che concentrarsi solo sulla meta, sentirsi a casa, più che scegliere in che casa abitare. Tutto nella norma di Gaia Spizzichino. Chiudiamo con un servizio di sport, impresa del tennis club Sciacca che dopo oltre sette ore di partite supera il Leonforte e accede al Final Four, promozione del campionato nazionale di Serie C. Le Final Four si disputeranno proprio a Sciacca dal 2 al 4 giugno. Il servizio. Prosegue il percorso del tennis club Sciacca Tulloneoglio nel campionato nazionale di Serie C. Il sodalizio, preseduto da Vincenzo Sclafani, ha superato il Leonforte anche nel match di ritorno, ha superato quindi i play-off avendo accesso alle Final Four promozione. Il circolo saccense ha vinto 4-0 dopo sette ore di grandissimo tennis e dopo la vittoria all'andata per 4-2 ha avuto accesso alle Final Four che si disputeranno proprio sui campi comunali del tennis club Sciacca dal 2 al 4 giugno a partire dalle ore 10. È la prima volta che le Final Four vengono assegnate ad un circolo tennistico agrigentino. Un sogno che continua per il team capitanato dal duo composto da Franco Sclafani ed Enzo Colletti. Davanti ad un numeroso pubblico, si è giocato infatti al coperto, la squadra di casa ha conquistato la finalissima grazie alle vittorie dei singolari del sedicenne Cristian Fanara e di Gabriele Dolce, Norbert Darizac e Domenico Caracappa. Per noi è una grandissima soddisfazione, dice il presidente Sclafani. Devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno giocato in questi anni e chiaramente questo gruppo, che con il giusto mix di esperienza e gioventù è riuscito a qualificarsi per questa storica ed incredibile Final Four che determinerà le due squadre che accederanno alla finale nazionale per la promozione in Serie B. Immaginarsi che il nostro piccolo club possa giocarsi il titolo siciliano a squadre maschile era un sogno. Grazie adesso a tutte le componenti che ci sono state vicino, potremo portare a Sciacca, dopo ben 15 anni, nell'elite nazionale del tennis. Queste le quattro squadre finaliste che si sono qualificate per le Final Four. Mediterraneo Sporting Club San Gregorio di Catania, del fortissimo ex numero 60 al mondo Alessio Di Mauro. Proietti Tennis Team Gravina di Catania, Tennis Club Caltanissetta e Tennis Club Sciacca. Questi i risultati dei singolari della partita di ritorno contro il Leonforte. Gabriele Dolce batte Nicolò Vanadia 1-6-6-1-7-6. Norbert Tadizak batte Mauro Vitale 6-1-6-2. Cristian Fanara batte Omar Di Stefano 3-6-7-6-6-2. Domenico Caracappa batte Paolo Fasciana 6-2-1-6-6-3. Noi ci fermiamo qui, è davvero tutto. Vi ringraziamo per l'attenzione e come sempre vi aspettiamo nelle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.